L'equipaggio che ha dominato questa trentottesima edizione del Prealpi, in testa dall'inizio alla fine. Per la chiamata dell'equipaggio vincente, Marco Coloppi e Angelica. Vai, destra 3 più, 50, destra 3 sconnessa. In sinistra 4 lunga, non tagliare, per destra 4 e destra 4 ancora in sto palmasso, sinistra 2 chiude. Per la chiamata dell'equipaggio vincente. Per la chiamata dell'equipaggio vincente, per destra 3 sconnessa. ritorno a te destro a te destro tieni in sinistra 4 tieni in destra 3 in sinistra 2 chiude gira lascia la fine per sinistra 3 tieni in destra 2 chiude in destra 2 chiude in sinistra 3 tieni in destra 2 chiude chiude a Allora mio padre l'ha vinto una volta questa è la mia seconda quindi direi che sono più soddisfatti Allora possiamo dire non c'è il 2 senza 3 in famiglia complimenti Eccoli qui Premia il presidente E' il momento della festa E' il momento della festa E' il momento della festa E' il momento della festa